È stata un'ottima compagna di lavoro, una persona molto buona. Leona la vide e mi disse domani fatti vedere da un ragazzo che sta facendo un film con me, si chiama Carlo Verdone. Io la conobbi tramite Sergio Leone, che me la segnalò in quanto era la parente di una sua amica, che era la moglie dello sceneggiatore Arlorio, che era russa. Questa ragazza che faceva teatro a Mosca, venne a trovare la cugina a Roma. Leona la vide e mi disse domani fatti vedere da un ragazzo che sta facendo un film con me, si chiama Carlo Verdone. L'era parlava già un pochino di italiano, quindi quando l'ho vista mi sembrava il personaggio ideale per il film. È stata un'ottima compagna di lavoro, una persona molto buona, molto professionale, molto gentile, sempre spiritosa, molto ironica. E la ricorderò per questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.